16 settembre 2012 Amatissimi, l'invito a rientrare in se stessi diventa sempre più insistente man mano che le energie si intensificano ed il cambiamento dei tempi prosegue inesorabile. Ci saranno delle svolte nel prossimo futuro, si dovranno prendere delle decisioni e fare delle scelte. Ciascuno di voi è consapevole che non c'è modo di tornare indietro e che siete diventati canali viventi dell'energia della fonte del creatore. Ciascuno di voi è un canale della luce di Dio che non manca mai a questa consapevolezza sta iniziando ad entrare nella vostra coscienza. Tutto ciò che fate nella vostra vita di ogni giorno è della massima importanza perché siete sempre ben saldi nella luce e nell'onestà. Attorno a voi ci sono le prove dei cambiamenti che si stanno verificando e queste verranno notate dall'umanità in massa nei prossimi mesi man mano che i giorni passano. Coloro che fra voi hanno trasmutato le proprie energie dense in tutte le cellule del corpo ora vibrano di energia pura che fluisce costantemente attraverso i canali meridiani. State mantenendo questa luce per tutti su questo pianeta e state servendo come canali viventi di pura energia. Come sapete, questa energia è molto necessaria per trasmutare ulteriormente le energie caotiche che ancora creano confusione, paura e tantissimo dolore, tristezza ed infelicità nei cuori dell'umanità. Sappiate che anche questo passerà. Coloro che vi circondano, i vostri cari, hanno ricevuto le frequenze superiori che voi emanate e questo ha causato molti cambiamenti nella loro coscienza e nella loro comprensione. Questo diventerà sempre più evidente, comprenderanno il lavoro che siete venuti a fare qui ed ogni tensione e differenza che si erano create fra di voi si dissolveranno come per magia. In altre parole, carissimi, essi si uniranno a voi, saliranno a bordo, nei prossimi giorni. Anche loro hanno scelto il sentiero verso l'unità e furono scelti per starvi vicino, in aiuto, una volta risvegliati. Il risveglio dell'umanità è in pieno progresso e la gente si sta rendendo conto della futilità di lottare per utilizzare il vecchio sistema, perché ora non viene più supportato dalle energie superiori. Sta nascendo un nuovo modo di relazionarsi, che onorerà il diritto intrinseco di ciascuna anima di far valere il proprio potere e la propria sovranità, onorando, nel contempo, lo stesso diritto nei propri fratelli e sorelle. Man mano che questo si realizza, molti vecchi paradigmi che hanno tenuto l'umanità schiava della consapevolezza inferiore semplicemente cesseranno di esistere. Per questo il mondo sarà più ricco perché ogni persona si prenderà la responsabilità delle proprie azioni ed inizierà a lottare per ottenere una vita migliore, dove tutti potranno godere dei benefici ottenuti. Tutti gli iniziati in cammino sul sentiero devono notare i segni, osservando gli uccelli e gli animali attorno a loro. Quando stanno per verificarsi dei cambiamenti della Terra, queste creature servono da avvertimento. Osservateli attentamente nella vostra zona ed osservate altrettanto attentamente tutto ciò che vi circonda. Mandate loro il vostro amore assicurando che tutto va bene. Il loro orientamento istintivo è stato indebolito dal movimento delle correnti elettromagnetiche. Noterete che alcuni degli uccelli che normalmente migrano dal nord verso climi più caldi per l'inverno non lasciano i propri nidi e questo può diventare sempre più comune man mano che le energie in arrivo sulla Terra diventano più forti. Pensatevi come degli agenti che portano l'ordine divino in tutte le cose, man mano che proseguite nelle vostra vita di ogni giorno, perché, in realtà, è proprio così. Alla prossima settimana, io sono Larion, tradotto da Laura Pigli.